Un'allerta a Bocconi è stata diffusa tra i vari residenti di Abano e si legge anche sul mattino di Padova. La grande preoccupazione di chi va a passeggio con il cane non è la prima volta che si manifesta. Si tratta di cibo confezionato e preparato ad hoc, con l'obiettivo di uccidere gli amici a quattro zampe. Dentro i Bocconi, infatti, si trovano dei chiodi. Testimoni raccontano che il Boccone sarebbe stato trovato in via Claudiano. In pochi istanti la notizia ha iniziato a circolare e sono state avvisate le forze dell'ordine. A tutti i possessori di cani ovviamente viene raccomandata attenzione durante le passeggiate. L'ignobile gesto viene condannato da tutti i cittadini che si augurano che il responsabile venga individuato al più presto.